Bene, siamo alla spiegazione del trucco della busta di Mary Poppins. Qui la scatola si piega in questo modo, pieghiamo così, si chiude, questo è teso e si piega così a metà. Vediamo anche come quest'altra scatola, come si fa, si chiude, si chiude, si piega così e si piega a metà. Queste due buste vanno messe all'interno della nostra, queste due buste applicate all'interno della busta di carta grande. Ora, il gioco si presenta tirando fuori queste due buste, però se vuoi, se hai dei fazzoletti colorati, puoi abbinare in questo gioco anche all'apparizione dei fazzoletti che non sono compresi, questi vanno comprati a parte questi fazzoletti colorati se non li vuole. Allora, vediamo come possiamo aggiungere dei fazzoletti, l'importante è che siano molto sottili, pieghiamo il fazzoletto così, poi lo pieghiamo ancora, lo pieghiamo ancora e lo mettiamo all'interno della busta verde, così, va rivolta verso gli spettatori all'interno e si mette sul fondo. Ecco fatto, così sul fondo. La stessa cosa per il fazzoletto rosso, se vogliamo far apparire anche in questo caso un fazzoletto, ma puoi benissimo presentare il gioco senza far apparire i fazzoletti, poi semplicemente apparire le scatole. pieghiamo, pieghiamo e questo fazzoletto va all'interno della scatolina rossa, pieghi così in maniera tale che sia tutto all'interno, molto bene, lo prendiamo, lo mettiamo dentro sul fondo. A questo punto per non far vedere la scatola è importante premi così in modo da stringere un po'. Se siamo aperti si può intravedere, invece premuto sul fondo e tenuto così non si vede assolutamente niente, anche da molto molto vicino. Quindi inizi il gioco, fai vedere la scatola, passi la mano dentro e ok. Gesto magico, al momento del gesto magico il rilassi, vai semplicemente qua a prendere il bordo, lo sollevi, nel caso hai messo il fazzoletto prendi un bordo del fazzoletto, tiri fuori il fular rosso, appoggi il fular rosso nella mano sinistra che tiene la scatola e vai qua a prendere il filo. A questo punto togli il filo, la scatola si apre e fai vedere che all'apparizione di un fular rossa abbiamo avuto un'incredibile apparizione di una scatola con dei fiori all'interno rosse. A questo punto se ti sei sollevata, riappoggi la mano così all'interno come quasi per dimostrare che è vuoto, rimetti tutto chiuso in questo modo, quindi se la scatola sei rosa sollevata premi in modo di richiudere la rimetti a posto, mostri, rifai vedere il sacchetto agli spettatori che possono vedere il sacchetto completamente vuoto, ti rimetti verso di te, allenti la presa, vai qua a sollevare il bordo, molto bene, sollevato il bordo prendi un capo del fazzoletto, esci fuori, mostri il fular, lo appoggi sulla mano sinistra, vai all'interno, sollevi così e fai vedere la scatola e quindi anche in questo caso abbiamo avuto una apparizione.